Tasker si è presentata alla fiera di Francoforte con moltissime novità presentate nel nuovo catalogo 2011. Si inizia con la linea di cavi microfonici Supreme, una nuova concezione di cavi in carbon screen extra flessibili dalle spiccate performance nella riproduzione del suono. La versatilità dell'azienda è ben rappresentata da una nuova linea di cavi audio, video e combi realizzati con tecnologia Allogen Free, PUR e Fire Stop. Oltre ad una vasta gamma di cavi audio speciali e per casse acustiche professionali, il catalogo è completato da cavi video digitali extra flex per applicazioni in HDTV SDI e una gamma completa di cavi e connettori HDMI per formati HD Ready, Full HD e 3D e tanto altro ancora. Infine, in anteprima mondiale, è stata presentata una nuovissima serie denominata Professional Tasker Live, composta da cavi assemblati specificamente per il settore musicale. Io sono Casadei Vincenzo, responsabile commissario della Trabes di Forlì. Quest'anno in fiera presentiamo tutta la serie dei paranchi elettrici Divo. Divo è nato fra una collaborazione di Trabes e Rvm, azienda italiana produttrice di paranchi industriali e assieme abbiamo creato il Divo per lo spettacolo. Divo ha il doppio freno di serie su tutti i paranchi, tranne il 320 che sarebbe troppo piccolo per contenere un altro freno. Qui a Francoforte abbiamo portato la versione con il limit switch di fine corsa sia di salita che discesa. Per regolare il fine corsa è un'operazione molto semplice, si apre questo sportellino con 4 viti, si alza questa linguetta e si gira. Molto veloce, quindi anche i rigger hanno una maggiore facilità ad eseguire l'operazione di regolazione. Qua c'è la serie, il 320, 500 kg, 1000 kg, sul 1000 kg abbiamo creato questa nuova slitta che ci permette di avere un perfetto controllo della catena, una guida e poi abbiamo il 2000 kg. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.